Certo, come festeggiamenti esteriori, come preparazione, come settimana santa, tutto è cambiato, per cui vediamo la Pasqua in un modo diverso. Ma non è così. La Pasqua è quella di prima. La Pasqua è la risurrezione del Signore, non è tutto quell'apparato esterno che ci è stato proibito di realizzare. Ora dobbiamo soltanto pensare ad una Pasqua che è della nostra anima, del nostro spirito. È una Pasqua che è un qualche cosa che è dentro di noi e basta. Il resto non conta. È una Pasqua scevra da tutte le materialità dei tempi moderni che il coronavirus oggi ci ha tolto. Don Mario Casini, parroco di Cigiano e Gargonza, parla ai suoi fedeli attraverso le telecamere di Arezzo TV in diretta a Facebook e successivamente indifferita. Sì, perché perfino la fede oggi passa dalle nuove tecnologie che permettono nel rispetto dei decreti di arrivare a casa della gente. E così il messaggio è ancora più forte e magari più sentito. Un fedele lascia le uova in un altare per la loro benedizione e poi corre a casa a seguire la Santa Messa in TV. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Lontani ma uniti anche nella professione della fede per sconfiggere il coronavirus e riconoscersi comunità anche in questo momento così difficile e tornare a riabbracciarsi al più presto e con maggiore consapevolezza.